Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Weekend che inizia con nuovo maltempo per la nostra penisola. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per sabato 20 aprile. Pioggi e acquazioni sparse al mattino sul nord-est Emilia Romagna e regioni del centro con neve oltre i 1.200 metri. Variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio condizioni di tempo instabile su buona parte della penisola con piogge e temporali sparsi. Neve oltre i 900 a 1.300 metri su Alpi e Appennino. Più asciutto su Calabria e Isole Maggiori. In serata è notata ancora fenomeni soprattutto su regioni adriatiche e settori peninsulari del sud. Neve fin verso i 900 a 1.000 metri. Temperature minime in calo al centro-sud e in rialzo al nord. Massime in diminuzione al centro-nord e in aumento altrove. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.